Allora salve a tutti ancora, approfitto sempre di questo spazio per presentare un po' di cofanettini antologici che sono convenienti per rapporto qualità prezzo, ammesso che si trovino ancora in commercio in catalogo, credo qualcosa ancora di sì. Allora a sinistra vedete il cofanetto dedicato agli spirit della Cherry Red, esoterica Cherry Red, uscito nel 2018, contenente 5 CD con tutta la discografia di questo storico gruppo psichedelico californiano, capitanato da un buonissimo chitarrista che si chiamava Randy California e tiene tutta la loro produzione uscita per la Ode che era una sotto etichetta della Epic Recordings infatti. Allora loro in realtà erano psichedelici ma molto sui generis, in un certo senso erano forse i meno psichedelici tra gli psichedelici ma erano anche tra gli originali, tra chi tentava strade diverse non copiando i soliti magari Jefferson Airplane o Grateful Dead. Avevano un suono piuttosto sofisticato per essere un gruppo psichedelico. Infatti Randy California era non solo innamorato poi chiaramente un po' come tutti i chitarristi di tutti i tempi di Jimi Hendrix ma soprattutto era un appassionato di jazz. Quindi lui ha un po' unito questa psichedelia alle scale anche modali di John Coltrane. John Coltrane si sa che ha influenzato pure una miriade di gruppi rock. Allora si parte subito con il primo LP del 68 che è già un buon biglietto da visita del loro stile ed è un disco classico del genere appunto psichedelico californiano ed è un disco tutto sommato però tradizionale rispetto al secondo che è Family That Plays Together del 68 in cui qui ci sono delle suite un po' più estese e le fluenze jazz si fanno più pronunciate. Quindi è quasi una psicheteria fusion anteliteram però non è stucchevole come tanta fusion che poi è venuta negli anni 70 perché comunque loro la base rock psichedelica ci hanno sempre avuto abbastanza pronunciata. Quindi non erano quelle cose ibride che non erano né jazz né rock ma inglobavano in pratica i due elementi. Però si sente proprio che la tecnica chitarristica di Randy California è comunque di derivazione jazzistica pur non essendo un Joe McLaughlin un Pat Metini ecco non c'entra nulla con tutto ciò. Poi fecero un altro disco un po' interlocutorio che si chiama Clear sempre del 69 che ripete un po' più stancamente gli stilemi e i cliché e poi invece fecero un ottimo disco nel 70 The 12 Dreams of Dr. Sardonicus in cui ripresero un po' con più vigore Randy California la formula da lui inventata però in una chiave meno psichedelica e più vicina a un rock americano di quel periodo però siamo sempre appunto su un livello più che più che discreto c'è un disco ottimo da sette decimi io posso dare sette e mezzo a family that plays together un set al primo e un set appunto a questo disco che ho detto. Poi le cose che hanno messo dopo c'è un cd di roba inedita di cui si potrebbe anche far a meno. La masterizzazione come al solito della Cherry Red è ottima il libretto è ottimo e tutti i cd ecco come anche quello che ho presentato oggi degli electric prunes della esoteric della Cherry Red le custodie sono proprio in vinyl replica quindi è come se c'aveste un LP originale solo che invece che l'LP dentro ci sta il cd quindi è una copertina cartonata come mini LP quindi tipo stampa giapponese e io questo l'ho pagato tipo una ventina di euro però l'ho preso nel 2019 quindi adesso non so se il prezzo è aumentato o se è ancora in catalogo comunque è caldamente consigliato perché con 20 euro vi fate tutta la discografia completa e rimasterizzata con inediti. A destra invece vedete un cofanetto degli Ultravox beh qui siamo nel campo proprio della storia della new wave inglese questo è un cofanetto della Universal del 2016 questo non so sta ancora in catalogo e tiene tutti i primi capolavori degli Ultravox rimasterizzati perfettamente con un disco pure di inediti e con un bel libretto con belle note e foto come insomma si usa ormai fare da un po' di tempo. Allora il primo album Ultravox quello è storico ed è uno dei dischi più belli della new wave diciamo così post modernista quindi un po' vicino a certe cose intuizioni di The Roxy Music perché si sente comunque un'influenza di Brianino però qui già con John Fox che era il genio del gruppo che prende proprio bene in mano la situazione e fa un disco che non è invecchiato di un secondo cioè nel senso questo è come ascoltare i primi due dischi dei Roxy Music che sono ancora di una freschezza e novità invidiabili le sonorità sono elettroniche, sono quel classico rock new wave virato sull'elettronica però di stampo romantico quindi non d'archeggiante come potrebbe essere un Joy Division o un Public Image Limited che sono proprio sull'avanguardia, cioè i Public Image intendo, sull'avanguardia quella proprio più su ritmi che anche dub non siamo certo a livelli del pop group o che ne so dei ripper di Game Panic, lì stiamo proprio su un altro pianeta cioè un altro pianeta è proprio un altro genere e qui insomma quella new wave romantica però molto ben fatta che poi dopo purtroppo è sfociata negli anni 80 nel new romantic che è una schifezza terrificante insomma è nulla che vi sto a raccontare i gruppi che andavano quando io andavo al liceo io perché io non li ascoltavo già ascoltavo i gruppi della SST e Dead Kennedys quindi mi sono perso proprio molto volentieri gli Spandau Ballet tutta quella roba lì infiocchettata tranne che magari ecco il primo disco di Duran Duran che c'è qualche pezzettino carino però vabbè insomma tralasciamo allora questo tiene Ultrawox poi c'è quell'altro che ha 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 che c'è il famoso pezzo Hiroshima Mon Amour e poi System of Romance che loro praticamente un po' canto del cigno e questo è il disco in cui praticamente poi Midge Yur e John Fox si dividevano poi i compiti poi John Fox se ne andò fece dei suoi dischi solisti molto interessanti e Midge Yur invece appunto si spostò verso un campo neuromantic e con Vienna diede ancora un buon disco però ecco poi alla fine gli Ultrawox finirono là perché poi diventarono un altro gruppo e diventarono un qualcosa tipo vicino agli che ne so che c'erano i Simple Minds però i Simple Minds no i primi quelli diciamo più danzerecci quelli un po' più così quindi vabbè insomma sono due cofanetti consigliati entrambi io l'ho pagati molto poco la rimasterizzazione è ottima di entrambi e sono dischi fondamentali quindi buon acquisto e buon ascolto no no